Lui è eterosessuale, anche io forse a Milan, ma anche voi con queste giacchette, eh ragazzi! Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Kashmir incontra Netflix, un tudum morbidissimo. Un po' ancora di nottata lunga, è vero, nottata lunga perché seconda serata è stata scoppiettante, frizzantissima, talmente tanto che ancora il sonno ti viene quando sei preso. Sì, 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 guarda, veramente frizzante, ho rivalutato marzo 2020, mamma mia, che emozioni ieri sera, eh! Wow, guarda, dimmene una, dimmene una! Tananai! Allora, l'amico, un amico, un fratello? Sì, un fratello! Fratello fino a un certo punto! Padre! Caro Tananai, tra l'altro mi sa che è della mia stessa città, se un giorno succede che io vado a bere in un locale, vado in bagno, lascio la mia ragazza al bancone e ti trovo che le appoggi, la tua simpatia, il tuo savorfero, la tua verve, esatto, sulla faccia, sappi che è il momento in cui forse prendo il coltello, lo punto sul tavolo per dire, mi fai una kaipiroska, lo tagliamo con questo, però voglio rendermi un attimo... Il Lime ci penso io, eh, ti ho visto emozionato in quel momento lì, Tanan, sì, sì, ricordava una certa, forse un po' troppa sicurezza sul palco? Un pelo, sì, un pelo! Madonna, sono già diventato una persona che giudica gli altri a Sanremo! Ti ho visto, sì, però grande impermeabile, grande impermeabile! Sì, lo metteresti? A Parco Sempione, sì, quando, insomma, per andare a fare delle attività... Posso dire, con niente sotto, però! Eh, certo, ovviamente, insomma, che è già... Ah, cerchiamo di fare luce nella serata ieri sera, dunque... Hai una torcia! Primo ricordo che ho è, dunque, Giovanni Truppi, inizia a cantare, bella canzone, molto bella, un pochino, l'ho vista e ho pensato... Sai quando mamma ti dice, certo però te la potevi mettere una camiscia, mannaggia, mannaggia, una camiscia... A tu hai pensato questo? Eh sì! Io ho pensato che fosse un personaggio tagliato dallo straordinario Sampa, che è uscito l'anno scorso... Ah, tu dici che poteva essere un altro... Sembrava, sì, che aveva qualcosa da raccontare su una vita forte, poi, bellissima canzone, super complimenti! Diciamo che sì... Infatti poi è arrivato Amadeus e gli ha fatto, ti faccio un bel sole piatti! Giovanni Truppi! Bellissima canzone! Andresti in canottiera a Sanremo? Ma non riuscirai mai! È stato molto coraggioso, ha puntato tutto sul testo... E' dimenticando la camicia! Eh lo so ragazzi, però insomma, in un festival in cui si parla molto di outfit, eccetera, ha fatto una scelta politica, attenzione, che io stimo! Ma a proposito di outfit, salutiamo Tahir Hussein e le sue magliette! Buongiorno, buongiorno! Account aperto su Instagram quando? Ieri le magliette di Tahir Hussein? Ma non lo so che hanno fatto questa cosa, verranno forse denunciati? Probabile! Ah, quindi siamo alle maniere forti! Che ne pensi della serata ieri, Tahir? Serata, in realtà, a me non è dispiaciuta! Beh, ti sei messo là, tisenina lo zenzero, plettino! Ho sentito il compitino da molti artisti, altri mi hanno sorpreso! Ah, sì, puoi dirci un nome! Chi ti ha sorpreso? Allora, tipo... Mi madre, i pazzanicchi! Sei tutto! Ragazzi, l'acqua, i latemi gonchi! Che non mi ha sorpreso, mi aspettavo una performance incredibile! Nuovo duo che apprezzo molto, Dito nella Piaga e Crudelia De Mon! Fortissimo! Beh, molto, sì! No, no, veramente, mi sono piaciuta, loro due! Resto pure San Giovanni, mi ha sorpreso! San Giovanni, sì, buona esibizione all'inizio! Le ragazze cosa ne pensano? Cecilia Attanasio, Alice e Mario Riveri! San Giovanni, grande delusione, buongiorno a tutti! Buongiorno! Grande delusione vuol dire che avevi delle aspettative! Sì, avevo delle aspettative su San Giovanni! Perché Cecilia è una San Giovannina, attenzione! C'è stato un momento della sua vita! Hai fatto dei TikTok dove facevi strette! Ovviamente! Questo, grazie a Dio, non è successo, però... No, lei apprezza molto! Purtroppo no! A me è piaciuto San Giovanni, ha rispettato le aspettative! Ma quando l'avete sentito che stavamo mangiando? Oh, era appena arrivati l'unico! Era il primo che cantava, comunque l'abbiamo mangiato! Allora, questo bel completino rosa, io ho detto anche, guarda, se mi avessero fatto vedere questa immagine vent'anni fa, avrei detto, questo è il futuro! Perché era vestito come un uomo del futuro! Un ragionamento di Alice! Quale universo? Nel senso, tipo i pro-nipoti, quegli outfit spaziali! San Giovanni era vestito come un uomo del futuro! Retro future! Sì, sì! Però noi qui stiamo parlando troppo di outfit! Perché Sanremo è innanzitutto musica! Notte, arrangiamenti, composizioni! Andiamo nell'angolo del maestro! L'angolo del maestro! Lo spartito di Carmelo avanzato! Io Sanremo non l'ho visto, come tutti gli anni! Voglio in realtà dire che non lo guardo, lo ascolto, mentre faccio altro con gli occhi! Quindi scoprire che Trupi avesse la canottiera... Cosa fai? Spogli delle donne con i tuoi, mentre giri per la città collegato con Rai Play e ti guardi Con il suo binocolo, quando vedete un monopattino elettrico solingo nella notte, un uomo con un binocolo che gira così, potete sapere... Poi lo ascolta sulla radio, quella che va sintonizzata con la rotella! No, lo sente da Radio Svizzera, dalla Radio Ticinese, con tutto un commento stupendo! E quindi non l'hai solo musica? No, lo ho ascoltato e quindi apprezzo tantissimo che Trupi sia andato con la canottiera per spogliarsi di questa estetica che invece ricercano gli altri concorrenti spesso! Ah, senti... Non tutti, eh, c'erano anche canottiere più matte, cioè Irama ha fatto una scelta di outfit aggressiva! Esatto! Quello invece è quando Nona dice, guarda, non te sei voluto mettere la camicia, pia sto centrino che c'ho a tavola, tu lo metti addosso, con questo stai tanto bene! Senti, ma invece musicalmente qual è un pezzo che ti ha colpito, Carmelo? Ah, intanto ho visto che sono sparite le solite figure armoniche, classiche, radiofoniche... No, 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 l'ascolta, l'ascolta, sono sparite le figure armoniche, cioè per dirti l'eleganza del commento del maestro avanzato. Infatti non me l'aspettavo sta domanda tecnica, però ho visto invece un ritorno al maggiore relativo minore, quello che può essere Do, la minore... Né io volevo farti una domanda tecnica, sto a scoprire... Infatti è sì, un po' troppo forse... Tempo che ci siamo addentrati in un territorio un po' spinoso... E allora usciamo dalla musica e parliamo degli altri grandi momenti, ieri ci sono stati un paio di monologhi che hanno fatto, diciamo, scalpore, si può dire? Sì, 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 si può dire, beh, il primo quello di Lorena Cesarini... Che era emozionata... Era emozionata... Sembrava un comico che sale al primo open mic? Sì, diciamo la verità, sì, era meno a tuo agio di te a lol... Diciamo la verità, poi vabbè, ciascuno, insomma, pensa a quello che vuole... Ma, oddio, a pensarci bene... Però ho fatto più ridere... No, scherzi... Grande emozione, grande emozione di Lorena Cesarini, che è stata poi immediatamente dopo bissata da Checco Zalone... Da Checco Zalone, che era leggermente meno emozionato... Sì, è vero, è vero... Ti immagini il tipo che era... Checco Zalone è partito col suo monologo dall'alto... Ti immagini il tipo di fianco al quale si è seduto... Ah sì, stupendo... Checco Zalone... Poi c'era un signore che stranamente, mentre c'era Checco Zalone, guardava così, con la mascherina... Perché c'era lo schermo... E nessuno ha capito che cosa stava facendo... Quello, e poi però grande eleganza di Iva Zanicchi, che non ha fatto notare all'ottima Lorena... Lorena... Non sarebbe soprannominata l'Aquila... L'Aquila di Ligonchio... Di Ligonchio... Dico bene, è giusto, è Ligonchio è la città... Un personaggio uscito da Inglourious Busters... È vero... E poi, vabbè, grandi momenti, solito quando ci riprendiamo sempre c'è la grande pubblicità della Liguria... Sì, momento della pubblicità della Liguria, con una Elisabetta Canalis che si scopre il Ligure... Anche lì abbiamo un territorio meraviglioso, abbiamo il formaggio con i vermi, abbiamo il pane Karasau... È la Liguria, veramente, è il luogo in cui ho lasciato il cuore, nelle Nuraghi... Venite in Liguria, perché è la regione più bella del mondo, e ve lo dice, una Liguria è doc... Pubblicità strana, perché quando lei finisce di parlare si vedono delle ragazze che fanno un aperitivo, e poi l'immagine si sfuoca, e quindi dici, devo andare a ubriacarmi in Liguria, perché stai... Che sottotesto è? È la regione preferita dagli astigmatici, dai miopi, da tutte le persone che hanno perso gli occhiali in mare, e che purtroppo poi si trovano a vedere le bellezze della Liguria... E invece, grande ritorno... Allora, questo forse ne parliamo fra poco, stavo dicendo che Cattelan, Micah e Pausini sembravano Lopez, Solenghi e Marchesini... Sì, infatti io mi aspettavo che a un certo punto facessero i Promessi Sposi, però purtroppo non è successo, però bel momento, problemi con la borraccia di Laura Pausini? L'unica persona che ha portato... Perché ha avuto bisogno di bere dalla borraccia, un po' di secchezza, delle fauci... Non lo sappiamo... Che liquido c'era in quella borraccia? Ma questo è un momento to doom, forse... Momento to doom, che liquido c'era in quella borraccia di Laura Pausini? Non lo so... Vodka? Vogliamo dire? Un Amadeus sbagliato? Un cocktail che viene fatto a Sanremo... Al bar del teatro... Esattamente, sì, sì, sì... Difficile da dire... Difficile da dire, però lei era molto in controllo... Lei molto in controllo della situazione, una diva... Piaciuta l'esibizione di Laura Pausini? Sempre Laura Pausini... Insomma, è come... Non lo so... Qual è la canzone per la quale l'ami di più? La solitudine... Vimene un'altra? Marco se n'è andato e non ritorno... È sempre la solitudine... Perché fa la solitudine... È sempre la solitudine... Lascia che io sia, no, è Neck... Quello è Neck... Trottolino amoroso... Ma no, non è super... Che piace tanto alla Casellati... Non scherziamo sulla più grande canzone mai stata cantata a Sanremo... D'Amedeo Minghi e Mietta... Pasquale Panella... Gritta da Pasquale Panella? Sesto, sì... Il maestro... Un'altra, un'altra... Commenti sulla classifica? Guarda, sono... Continuo ad essere abbastanza d'accordo... Mi sembra... Qua ci sono stati movimenti particolari? Elisa prima... Elisa prima... Mamoud secondo... Mamoud e Blanco... Ah, quindi Elisa scalza Mamoud e Blanco... Sì, per la sala stampa... Per la sala stampa... Che è nostalgica di quel 2001... Quando lei salì sul palco scalza... Ah... Chi? Elisa... Elisa salì sul palco scalza... Quando vinse... Quando vinse... Siamo vestita uguale a questa edizione... Guarda, il 2001 solo con delle scarpe... Senza tanto... Per scaramanzia... Che ne so... Anch'io sono vestito uguale al 2001... Quando andavo alle medie... Io... Questo era un po' il mio outfit... Che tenevo all'epoca... Che mi ha reso un po' il reginetto... Della scuola media... Che ho frequentato per una vita... E invece abbiamo... Penultimi in scaletta ieri... Sì... High Snob... Si pronuncia High Snob... High Snob e Hu... Sì... Che io descriverei come... Quando dimentichi i comacose fuori dal frigo... Diventano High Snob e Hu... Cioè... Tu vai al supermercato... Compri i comacosi... Ci sono carini... No... Vedi... Si vogliono bene... Guarda... Poi... Risistemi la spesa... Quelli li lasci fuori dal frigo... E poi però... Dici... Prendi il cellulare... Fai una foto... Fai una storia... E dici... Ragazzi... Li ho lasciati fuori cinque giorni... Sono ancora buoni... E tutti... Sì... Sì... Vai... Non c'è problema... Stanno fuori senza problemi... Foto dopo... Ci sei tu ragazzi... Ho fatto un errore... Sì... Foto dopo... Ancora sei in ospedale così... Un po' di... Sto benissimo... Grazie a tutti i ragazzi dell'ospedale... Che mi hanno aiutato... Non sapete il lavoro che stanno facendo... Ma non è che erano tipo la bufala... Che non bisogna esagerare... Dopo cinque... Inizia sei... No no... Ma tranquillo... Poi ti senti meglio... E invece poi... Dai raccontaci ancora quella volta... Che hai mangiato High Snob e Hu... Fuori dal frigo... No ragazzi... Non sapete... Dai... Non ve lo posso raccontare... Chi è che li ha mangiati? Chi è? Eh li ha mangiati... Il tuo personaggio di corsi... Ragazzi... Oh fate un panino... E snob e Hu... Non lo farei mai... Non lo farei mai... Quello sì... Grande momento... E ultimo... Ultimo sono... Ce ne sono stati tanti altri... Come la vedi... Sta conduzione... Dalla... Dalla crociera? Allora... C'è un rimando a qualcosa? Mi ha ricordato molto... Un podcast che sto sentendo... In questi giorni... Di Pablo Trincia... Il dito di Dio... E mi riesco quasi a sentire la sua voce... Ci troviamo al Ponte 4... Mancano ancora sette minuti... Al momento in cui... Orietta Berti... Arriverà sul palco... E sarà vestita come una pizza capricciosa... Parlo con Fabio Rovazzi... Il quale mi dice che... Non si sente nulla... Dalla sala stampa... E chiamano a cantare... Ermalmeta... Che si è esibito... È stato forse il primo... Nella storia di Sanremo... Che si è esibito... Da una nave... Anche ieri... La sera prima... Con la pesce di Martino... Ok... Sì è vero... Forse in questa edizione... Soltanto in questa edizione... Non penso si sia mai fatta... Sta cosa di cantare... No... Non mi risulta... Non mi risulta assolutamente... E... No no... Quello è stato un bel momento... Outfit anche qui... Particolare... Per Orietta Berti... Per Orietta Berti... Sì... Ricordava una strana malattia della pelle... Sì... Vedi... Ieri sera ricordava il covid... E invece... No... L'altro ieri il covid... Ieri sera una malattia della pelle... È una brutta macchia... Sul braccio... Cazzo... Ho preso troppo sole... C'è un orietto a Berti sul braccio... C'è un orietto a Berti lì... Vabbè... Poi con il laser si toglie... E... Così... E... Eh sì... Quello è stato un bellissimo momento... Quali altri momenti ci sono stati... Questa... Stiamo cavando... È vero... Lo zucchero dalle rape... È stata una difficoltà... Non addormentarsi ieri... Ah io mi sono addormentato... Ah... Sulla sedia... Ah... Vabbè grazie... Sul serio... Sulla sedia mi sono addormentato... Tipo alle 11... So... Crollavo sulla sedia così... Ti ricordi durante quale esibizione? No... No... Quale momento gag... No... Non lo ricordo... Ah tu che sei un ragazzo del trapping... Come l'hai vissuta quella cosa del Checco Zalone... Che ha preso in giro il trapping... I giovanotti con te... Forse stavo dormendo... Stavi dormendo... Peccato perché... Esatto... Se un po' ti conosco non so se ti sarebbe piaciuto molto... Piaciuta molto sì... Perché ha fatto una canzone trap... Sì più o meno sì... Eh ha fatto una canzone in cui sì... Sarebbe stato triste allora... No è che devo dire che è più forte di loro... Cioè tutte le volte in cui viene rappresentato un DJ a Sanremo è sempre Rock Papa DJ... Non si esce da quell'esibizione che fece Rock Papa Leo nel lontano 2010... Mamma mia quanto tempo fa... Quanto tempo è passato... Però Checco Zalone uomo straordinario di palco, di spettacolo... Insomma ha gestito bene... Ha saputo gestire il palco... Il palco del teatro... Ora non so se io e te riusciremmo a gestire un posto del genere... Ma sai chi... Secondo me proprio con la mano sinistra riuscirebbe a gestirlo con grande serenità... Signore e signori... Il secondo ospite... Filippo Timi... Fai piano... Fai piano... Lo dobbiamo svegliare piano... Secondo te si è addormentato in quale momento? Secondo me... Nel momento in cui... Esatto... Fra il monologo di Checco Zalone che faceva il cugino di Albano e la regione Liguria... Svegliamolo piano... Filippo... Filippo... Ti amo Iva... Ti amo Iva... Quale miglior sveglio? Da libero professionista... Oh mio Dio... Dammi una coperta addosso... Ciao ragazzi... Ciao Filippo... Grazie mille di essere qui... Ti vediamo che sei... Sì sì sì... Emozionato ancora adesso... Che c'è che anno è? 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 No no no... E'va tutto messo... Ama! E' una sigla... Ama! Tutti amano ama! Vuoi un amadeus sbagliato? Per darti così un subito immediatamente... Ciao ragazzi... Ciao Filippo... Grazie mille per essere qui con noi... A Kashmir... Un figlio di troppo... Vai! Un ASMR così... Non l'abbiamo mai fatto... Con una voce del genere... Ma tu per caso fai teatro? Com'è che mi hai chiamato teatro? Perché hai questa voce... ASMR... ASMR? No? Mai capitato? No... Perché questa voce portata in modo... Doppio... Nella muti... No ragazzi... Allora... La prima sera... Ci ricordava qualcosa? La prima sera... Sexissima eh... Davvero con questa voce proprio... Aiuto... No... E che non respirava... Qualcuno gli è dimenticato di... Respira un l'altro... Respira... Ieri sera... C'hai il raffreddore... Amore... C'hai il raffreddore... È vero... Adesso va bene... Cioè... Ma chi se ne importa... Di che colore c'hai la pelle... Ma c'hai il raffreddore... Ma soffiati il naso... Rinazina... Rinazina... C'hai il raffreddore... È vero... Esiste un'attrice... Doppiatele... Doppiatele... Ecco il messaggio sull'inclusivity... Di Filippo Temi... Esattamente... Doppiiamo le doppiatrici... Tra l'altro tu hai doppiato... Hai doppiato Bein... Hai doppiato Bein... Sì... Io stavo tornando a casa... Un po' triste... Ero a Milano... E... Occhio che qui... C'è qualcuno che è sensibile a questi temi... Si diceva di inclusivity... Qualcuno si offende... Filippo... Ho abitato a Milano 13 anni... Quindi... L'amo moltissimo... Adesso sono... Salvo... Abito a Roma... Comunque... Uno alto... Due metri e mezzo... Vestito da Bein... Che se la tira... Adesso... Adesso ci penso... Adesso... Ti faccio svenire... Fotomodello... Vestito da Bein... Attraversiamo... Sto per incrociarlo... Inciampo... No scherzo... Sto per incrociarlo... E faccio... Rasa il cul... Lui si volta e fa... No... 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 Sì... Sì... No... Sì... No... Sì... Abbiamo fatto l'amore... Spero facendo sempre la voce di Bein... Comunque... Per tutto il tempo del rapporto... Sì... Sai come ho doppiato così... Rasa il cul... Per dar la maschera... Avevi delle... No no... Io con le dita... Così... Per avere più... Più... L'effetto della maschera... Cioè si è fatto tutto il viaggio così... Tutto il viaggio così... Esattamente... No è un lavoro duro... E invece Ornella Muti come l'hai doppiata? Solo mettendo gli occhiali o hai... Mi sono stretto forte forte la vita... Ho fumato 18 mal... Benvenuti al prossimo concorrente... No tesoro... Comunque... Stupenda... 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 Qual è stato un momento in cui proprio ti sei... Ho sentito veramente preso... L'inno... L'inno... L'inno di non ho capito cosa... L'Olimpia di Invernale... L'Olimpia di Milano e Cortina... Cortina a Milano... Quanto che freddo... Ma sono a Cortina o a Milano? Sono in entrambe le città... Come di... Troppo bisessuali... Io non capisco la bisessualità... Ma la includiamo? Includiamo anche quella... Avuale e Avapeur... Avuale e Avapeur... Si dice in Francia... Si dice in Francia... Si dice anche in Italia... Si dice anche in Italia... Due orecchie... Due orecchie... Si dice anche... Oh stiamo imparando tantissime cose oggi... Anche io si è una lezione... L'ho appena inventata... La bisessualità è spiegata a mio figlio... Anche perché si... Due orecchie... Vabbè... Ti rimane... Vabbè... Ti rimane... Va bene... Tutum... Stavo per farlo... E vedi... Mannaggia... Senti ma a proposito di... Inclusivity... Di inclusivity... Allora... Ieri hanno presentato i conduttori... Del... Come si chiama? Eurovision... Dell'Eurovision... Dell'Eurovision Song Contest... Esatto... E di tutti i concordi... Tutte le gare al mondo... È il più... Diciamo... LGBT... Aldo Giovanni e Giacomo... No... Se vuoi sì... Se vuoi sì... Erano una versione più moderna... Di Aldo Giovanni e Giacomo... Sale ora sul palco... Opdor... Figlio di Kmero... Figlio di Kmero... Tra l'altro sono i nomi degli artisti... Giorgiani... Sì a Yeye Brazov... Assolutamente l'artista per il Kazakistan... Che poi vince... E... No... Cattelan... Mika e Laura Pausini... Si farà l'Eurovision... Sì... Nella città... Diciamo più LGBT friendly del mondo... Che è... Come mai... Scusa... Pronto? Non cantava... Mika... Non cantava... Non cantava... Ha cantato... Lei bravi... Sì... Ma dai... Come al solito però... Ha cantato... Ma sono tanti anni che non canta più quel falsetto sparato... Era considerato il trend di me... HB Baw... HB Baw... Sì... Però si è censurato... Tanto tempo fa... Peccato... Adesso invece vuole diventare il Luciano Pavarotti... Esatto... Da Freddie Mercury... Sennò doppia anche lui... Che sarebbe un effetto straordinario... HB Brown... HB Brown... HB Brown... HB Bain... HB Bain... E il nuovo cattivo di Batman è Mika... HB Bain... Certo che è di minacciarlo e Mika gli fa... Non ti posso dire niente... Non ti posso dire niente... Sono così poco aggressivo... Erovision a Torino... Grande... Chissà come la viverà la città tetra di Torino... Sì... Diciamo così... Ma non è tetra a Torino... No... Però la parca sobrietà torinese... Esatto... Che accoglie... Che accoglie... La comunità LGBTQQ... Che arriva a Torino per l'Eurovision Song Contest... Mamma mia come sono colorati questi ragazzi... Guarda... È incredibile... Sono tutti i colori possibili... C'è la menta... La menta fredda... La menta all'anice... La menta latte... Sono anche colore del Bicerin... Guarda... È una cosa incredibile... Come li ho visti a rovare... Mi sono innamorato... Sicuramente non andranno poi a far serata... Tutti a mangiare un bonè... E poi a nanna... Ah no no... A nanna... A nanna presto... Alle 23 a letto... Che noi qui a Torino... Ci piace andare a dormire presto... Assolutamente... Però niente... Lui è grande fan di Torino... E odia Milano... Ma vabbè... Soprassiamo il cuore con questa cosa su Torino... Filippo... Ero un po' preparata... Allora dai... Allora... È stata una serata difficile... Cioè... Davvero... Abbiamo la possibilità di fare... Sembra il mio insegnante di teatro... Quando avevo 16 anni... Stai tirando... Schifo... No... Sto cercando un momento sincero... Come quelli di ieri sera... Mi stai... È commovente... Dentro l'anima... Sì... Sembra l'inizio della preparazione... Dello spettacolo teatrale su Sanremo... Sì... Cioè tu ci stai caricando... Ed è una grande... Sentiti fiore... Sentiti fiore... Sentiti busta... Ora sei... Ora sei una busta... Sei una busta su... Mi fanno paura... Mi fanno paura... Fuoco... Posso dire? Fuoco... 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 Oh... Eh ma tu le facevi quelle cose lì... Prima di prepararti per gli spettacoli teatrali... Quel genere di formazione... L'hai fatta? No... Perché io sono un circenser... In realtà... Cioè ho cominciato proprio... Facendo le ruote senza mani... Salti mortali... Proprio prendendola di petto... Ok... Anche perché io appena provavo a parlare... Niente... Mi inceppavo... E quindi proprio perché mi inceppavo... Alla fine ho cominciato a fare teatro... Proprio col brivido di incepparmi... Tutto oggi... Finché appunto... Non ho accettato la cosa... Tipo nel primo spettacolo che metto in scena... Come regista... Amleto no? Allora c'era... C'è il famoso monologo... Essere o non essere... Che tutti gli attori vogliono fare eccetera... Io ci lavoro per due mesi... Arrivo a farlo così... Essere o non... Questo è il problema... E esco... Alcune sere... Balbettavo così tanto... Che dal pubblico usciva qua... Alcuno non ce la faceva... Si impietosiva per questo povero amleto... E urlava... O non essere! E devo ammettere che la vita insegna... Arrivo... Vengo a prendere un gelato... La prima volta... Broma... Questo per farti capire quanto l'amo... Vado in gelateria... Un gelataio... Tocca a me... Io domando... Indicando la cioccolata... Cioc... Cioc... Oh... Cioc... Oh... Cioc... Oh... Oh... Ok... 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 E quello... Stracciatella... Io ci resto di merda... Perché pensavo che fosse chiaro... Cioc... E non stracci... Cioc... Vabbè... perché era un bel ragazzo adesso non ho capito vabbè perché ero sfinito mi dà la stracciatella e io proprio un gesto plateale era cioccolata quindi alla fine e quindi ho cominciato a reciccitare proprio per superare l'impasto del balbettare si sentiva che era preparata no se l'ha subicata non se l'ha subicata non se l'ha subicata avevi raccontato un po' di volte questo monologo come è stato interpretare l'idolo della tua infanzia cioè Mussolini nel film che hai appena fatto guarda allora io tornavo tipo a un certo punto sono tornato a casa soltanto una volta le riprese si facevano a Torino si fingendo che fosse Milano e tipo torno a casa e io lavorando un pochino sul ruolo cioè più che fare una mimesis cercavo davvero un po' un fiume nero cioè appunto un'idea di ogni potenza no? e quindi tipo sono tornato a casa e io era un periodo che invece di domandarti mamma ho fame io ti ordinavo ho fame e aspettavo perché ero abituato oramai c'è nel ruolo ho fame e mia mamma ok adesso ti voglio bene scusa mamma però è tipo un aneddoto fighissimo tipo la prima scena che Bellocchio ci fa fare a me e Giovanna è quella di di sesso e fu un genio no? perché noi non ci conoscevamo e quindi davvero per la prima volta ci siamo conosciuti annusandoci il corpo la pelle e baciandoci ovvio che sono finti i baci però le labbra quando toccano altre labbra un po' di lingua ci scappa sempre altrimenti altrimenti si vede che finta no capito quindi e dopo tu che simuli eccetera c'era Marco che mi diceva guarda avanti tu non guardare lei lei è solo un tramite tu guarda avanti avanti tu stai fottendo l'Italia guarda avanti la storia stai imprimendo il tuo calco nella storia dopo che fai per sei ore sti movimenti i due corpi insieme è vero che hai 40 persone che ti guardano ma dopo sei ore che tu baci le ecchi annusi io sono tornato a casa così anzi in albergo ciao ragazzi cioè qualsiasi tecnico ciao Mario grazie perché reggi quell'asta così sono tornato in albergo proprio cuscino ciao cioè dopo sei ore che baci mamma mia questo è una cosa questo è un grande momento tu d'um è a sexy mussolini esatto sexy mussolini tu d'um the mussolini untold mussolini untold esatto 50 sfumature di M vabbè andare avanti all'infinito 10 modi per sedurre l'Italia a letto senti film bellissimo vincere che stavamo citando adesso ma invece allora noi non siamo bravi a fare questo momento però dacci una mano dacci una mano se dico il filo invisibile wow dov'è come dov'è esce su Netflix il 4 marzo il 4 marzo esce al cinema 21 22 23 sono tre giorni e noi saremo in tutte le proiezioni ubiqui ubiqui si 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 ci smembreremo perché insomma è un film fighissimo bellissimo per la regia di Marco Simon Puccioni con Shanna Francesco Shanna come mio partner siamo una coppia gay e anche lì abbiamo c'è stato un giorno che ci siamo baciati con Francesco e dopo il bacio ci siamo guardati un po' imbarazzati devo ammettere è successo qualcosa lui è eterosessuale anche io forse a Milan ma anche voi con queste giacchette eh ragazzi allora si si ho questo pendente a forma ma quello è tipico milanista me lo si me l'ha dato Slava Zlatan Slava 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 si tu fibra bene bene questo io forte fibra good goal il pendolo forte con ibra ibra io ibra beh il film invisibile no no ragazzi davvero è un film bellissimo che parla di un tema fighissimo allora per la prima volta sì Marco Simon Puccioni fa una commedia su temi che 50 anni fa non esistevano l'euro per dire no gli nft no che due uomini o due donne si potessero sposare cioè io quando ero ragazzino pensavo e a me mi piacciono tantissimo le bomboniere no ma io per sposarmi quindi madonna ma devo sposare la mia compagnetta ma guardavo Giuseppe e no invece adesso io mi posso sposare con Giuseppe poi si fa le bomboniere il cacciatore col cacciatore capito è bellissimo e lì poi c'è tutto una tutto un discorso su un figlio che loro hanno ed è una commedia thriller che non si capisce a un certo punto chi è il papà di questo ragazzo qua chi è dei due papà è molto molto bello super commovente e lo si può scoprire e lo si può scoprire e super contemporaneo e allora 21, 22 e 23 febbraio o dal 4 marzo su quale non mi ricordo su netflix ragazzi che collaborazione veramente questa ragazzi siete due cashmere meravigliosi e morbidissimi e su queste note io so cosa stavi pensando mentre l'hai detto l'italia e a come prenderla pensavo a Mahmood grazie mille per essere stato con noi davvero grazie mille davvero a voi oh ragazzi mi sento Claretta Petacci ma che chiedevo di noi ci e poi ci vorrebbero dei brividi oh come on che dire a proposito di brividi direi salutiamo anche il nostro Carmelo avanzato ne hai provati di brividi durante questo splendido questa splendida puntata Carmelo eh sì infatti per la categoria miglior brano da ascoltare al telefono in attesa di parlare con l'operatore sì il premio lo ritira Matteo Romano ah Matteo Romano perché ogni giorno Carmelo diciamo dà dei premi a alcune di categorie particolari perfetto Matteo Romano lo terremo presente ciao a domani ciao Carmelo grazie Alice grazie Cecilia grazie Taira grazie Edoardo ci risentiamo domani con una nuova puntata di Cashmere incontra Netflix un to doom morbidissimo grazie a tutti 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 grazie a tutti